ok allora andiamo vabbè tanto chi se ne frega stiamo platino la sito non è ancora iniziata quindi per quello sto giocando adesso ciao cava per quello sto giocando adesso yagmoth ok la sua risposta è sì no aspetta devo cambiare l'immagine devo cambiare l'immagine l'arena open è historic l'arena open ah sì cioè il qualifier anche l'arena open è historic non la farò mai comunque allora best of three uh grazie per la domanda arisbex abbastanza bene non benissimo però abbastanza bene sono periodo molto stressante come sempre grosso dell'estate ah il qualifier è l'arena open l'arena open andiamo no la citazione è se penso a quello che dico non so se l'avete colta la citazione di un di una grande mente italiana qui c'è il manadorc quindi si tiene no vi ho aspettare corda di un noto intellettuale della provincia di bari no anzi di bari proprio esatto no è solo è solo non è la cosa peggiora concordo non è la cosa peggiore che dice in quell'intervista gil dengoose prego il manadorc c'è c'era il manadorc c'era allora io raggio un'alta voce qua dovrei fare in keeper forse però in keeper me lo scoppia secondo me oppure faccio sorin che è meno importante di in keeper paradossalmente e iniziamo a fare un po' di setup vediamo io qua faccio sorin ciao mauro o magari sbaglio però faccio sorin questa mi sembra più importante super resting keeper ok cioè se devo usare i muvalli faccio usare sulle carte meno importanti più che altro eh serverebbe il coaching di capa là ok i soldi miei vai grande arisdex qua dobbiamo mettere jagmot e poi prendere lupo lui toglie sorin ok senti nell'ok ok direi male male così a naso in realtà se sopravvive jagmot per caso possiamo prendere lupo e spaccargli tutto se sopravvive jagmot cosa che dubito avverrà anche perché siamo a 12 però cioè alla fine bastano jagmot e lupo vabbè lui comunque penso che sia no si è partito discretamente direi che lui si è partito discretamente lui è partito molto bene che è partito che è partito ho perso si qua non posso fare niente qui devo fare il cavaliere no non serve a niente qua è persa giusto bisogna che nessuno di voi lo sa se qua è persa grazie a tutti grazie a tutti questo fa una vita ok vabbè boros credo che sia un match up non bellissimo e qua è tutto dico sul fatto che sto mazzo forse non è il miglior momento però noi abbiamo sun cleanser abbiamo fatto al push allora lui potrebbe mettere in realtà pt needle quindi ci mettiamo una might perché lui pt needle la mette che si abbassa qui si abbassa eh che si abbassa qui non ho idea si tolgono questi che si abbassa a patra a patra si abbassa secondo me abbiamo lupo immagino due cavalieri per forza se no dobbiamo togliere altre cinque carte un sorin un oselot goose pellegrino e un altro cavaliere che te devo dire per forza vai ok vabbè facciamo un po' di pippoli comunque qui adesso noi la challenge è farming quindi direi di no diciamo che contano i mythic le statistiche in challenge meta che in challenge non è che ah così poi si trasforma e trasformati cazzo mene che si trasforma vai o 2 ciao brutto e gatti i gatti 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 ok questa la mandiamo a morte grazie posso prendere un drop a 3 devo togliere questo no però ho come togliere no non posso togliere questo non ho come pagare il mano è la lista di capala non gioca apparition lui vai lo so che blocca e spacca questo grazie a tutti se riesco per caso a stappare cosa che non succederà per prendere che penso che al momento non è sun cleaner il problema silenzio calò il silenzio calò il silenzio sul pubblico sul pubblico and the festivities calò il silenzio sul pubblico vabbè che gatti sta messo meglio diciamo lo sospettavamo questo non è un keep no? qua devo keepare per forza non è che posso non è che posso ma ligare fino a 2 abbiamo corda lupo insomma togliamo bo seju qua non è che posso i cazzi vi ho attaccato dovevo fare dovevo vincere di aggro qua ormai high smoke high smoke gg good game sei italiano non ricordo are you italian? porco german ok 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 facciamo 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 pezzo almeno mano finita minchia grande lui crucius però se non hai fatale push i cazzi i cazzi vai ho sbagliato dovevo fare pezzo facevo due token perché prendeva blessing ho fatto una cazzata devo fare pezzo così prendeva blessing non passerò mai più oh smoke thanks thanks my friend ci batte ci deride usa end of the festivities ma ci fa la sub grande smoke thank you very much si è fatto perdonare per la end of the festivities ci sta apprezzo è porco due però no hai fatto il push se ce l'hai ce l'hai non ce l'hai ok siamo messi male però diciamo non malissimo cioè se ci esce una corda dunque con gli agomot faccio un po' di casino peschiamo togliamo shiol dread però ci deve uscire una corda pesca ok 4 li posso prendere minchia questo ci fa il delirio ci fa con gli agomot comunque è mazzo particolare questo cioè gli agomot cioè devi essere un maestro per giocarlo perché vedi cioè in questi casi ok prendendo gli agomot cioè concorda qua e non moriamo perché ma se facciamo vite concorda qui comunque non stiamo messi minimalissimo concorda è vinta no non più perché toglie in keeper ok qua si blocca non posso prendere più danni diciamo e Ciao o almeno una partita la vorrei vincere una Ciao Valerione il mazzo di Oppo è un Jand Boomer che voglio vedere che fa contro Gatti però contro Jagmoth ovviamente on the play io non mi modifico troppo il piano abbasso un Sorin e un Cavaliere non ce la metto Fatal Push potrei abbassare a Patra mettiamo una Fatal Push però vediamo per me questo è un Keep deve usare Fatal Push di primo se no connetto qui e faccio un pezzo oh tozza forse non è Fatal Push qua ha messo tutte le fratte del mondo comunque cose simili beh bye bye ma porco due ma non ci credo ma non ci credo mai non ci credo mai non ci credo mai non ci credo mai e siamo riusciti a fare una volta la combo siamo riusciti a fare una volta la combo sul ladro sul ladro rimango uguale rimaniamo esattamente uguali sì che ce l'avevo lo frattavo cercavo finché cercavo corda torno dopo non era finitissima però e due lupi un lupo basta e due lupi basta un lupo torna all'infinito torna con il più no più uno segnalino segnalino o non ho capito burro glielo togliamo con Iagmoth il segnalino grazie a tutti questa è una briga di pezzi infiniti era comunque in quale situazione secondo me era finita se qui a Vratta succede il devasto forse aspetto a metterlo se l'ottante va bene i pezzi va bene così grazie a tutti prego svolgiamoci la mano quello che succede succede Iagmoth vinta corda vinta vrattapers no forse potevo bloccare con tutto forse potevo bloccare con tutto attendant che non giochiamo ok abbiamo vinto una però lui ha fatto un errore qua stranissimo ha fatto un errore abbastanza strano ma non c'è altro troppa uno a due che fa la stessa cosa di Artisme 1-1 e se c'è se mi dite il nome lo mettiamo se mi dite il nome lo mettiamo non c'è ok Zulaport marionette no questo non è Zulaport si si esatto è meglio questo ah che io controllo ok si no non è la stessa cosa si 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 non è non è non è no marionette non fa la stessa cosa eh boh perché magari non lo so cioè noi ci stiamo affidando al maestro che è capala quindi diciamo che mi sento abbastanza sicuro del tipo di lista ci affidiamo al maestro cunghio capala l'ho battuto eh con in quello score lì c'è una sconfitta contro di me in tutto ciò va bene contro contro non vincevo mai qui ma mai proprio ciao Steve c'è tipo Yagmot contro contro com'è che vince più o meno non vince ciao Cliff sto provando Yagmot non mi sembra messo benissimo Yagmot nel meta qua mi servono 18 pezzi per fare la combo contro contro quanti mai li abbiamo non abbiamo mai più ok oh no è difficilissimo sicuramente è difficilissimo però contro gatti sta male ragazzi scusate un attimo però perché dite che con un lupo non scomba perché servono due lupi che mi sto perdendo perché dite che servono due lupi ok sì 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 servono due lupi o due lupi o uno e la patria ma qua ci fratta dopo è che non ho capito quale sarebbe attendant perché non lo gioca capala ah questo ok ah è vero sì 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 è vero è vero ah devo giocare a te non l'ho giocato perché ho pure della fratta però in realtà ho fatto bene a non giocarlo perché lo posso giocare con terra se non ci fratta adesso faccio una pezza infiniti però ci fratta non ci fratta eh ma questo non è in mano cioè il problema è quello non è così no avrei dovuto avere lupo in mano senza lupo in mano non c'è il discorso eh allora tocca comunque giocarli questi perché devo fare gli agmot sacrificare roba trovare l'altra cosa insomma dobbiamo fare un po' di cose qui o magari sto sbagliando eh perché però se fa fratta non può fare counter boh vediamo se si tappa per caso faccio gli agmot ma non si tappa perché può fare normalize più purga cioè purga più normalize sta sempre aperto lo schifo vedi vedi sta sempre aperto sono ciao 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 poi argomot counter su corda persa ma pensando se canterario meno ok allora adesso io posso prendere gli agmot e non farei cercare non fare niente qui di corda devo prendere gli agmot sono tre più quattro non faccio un cazzo mi sa per trovare altra corda e non fare nulla perché non ho il lupo non fa pezzi infiniti quindi ho semplicemente perso boh proviamo non fa pezzi qui torna poi guarda che trovarla dobbiamo trovare corda cazzo serve l'altro lupo ma per fa che non abbiamo mana abbiamo umana abbiamo altro lupo ma possiamo andare infinito adesso possiamo andare infinito però ok andiamo infinito peschiamo un botto peschiamo un botto ok questo mi è chiaro no no ero era un mano potevo fare il blog artist ma rimane no ok ma io non ho capito bene la combo mi sa allora la rifacciamo no la rifacciamo snappi è un casino sto mazzo comunque proprio un casino sto mazzo ok e però allora non li faccio mai pezzi infiniti eh sì certo mircico certo certo lui mi spacca questa poi non la rifacciamo secondo me né io né lui abbiamo ben chiaro come sia che sta succedendo quindi la cosa positiva è che nemmeno lui lo vedo studiatissimo cioè allora fatemi capire io devo sacrificare un pezzo che non può essere il lupo quindi devo sacrificare un altro pezzo i pezzi li fai con una patra che ho tolto fai submit zero e sacchi lui che è quello che ho fatto però hanno scritto sopra che non era giusto boh ma che cazzo me ne frega andiamo così ma questo non ha vratte comunque quindi ciao marcus ma sì dai quindi ho fatto bene prima che io prima ho saccato un lupo e mi avete detto che era sbagliato jacomo sacca lupo lupo torna più uno sacca l'altro lupo e al primo lupo ok la partenza è sbagliato quando ai due lui più 1 1 1 devi fare uno con submit zero con submit zero ma è quello che ho fatto non ho fatto così bisogna allenarsi costi ma anche per questo ha vinto adesso sì devo provare con sparky secondo me ok sparca sorin ok dobbiamo abbassare tamio ragazzi se no abbiamo perso tutti perdo i due lupi perdo i due lupi quindi non va bene no sti cazzi tutti qua vai ah cazzo c'è l'emblema di questa porco due secondo me il top è che ti fa un più uno a mani scoperti qualcuno che lo sa giocare con discord basterebbe che capissi una volta come si fa vabbè detto ciò vuoi venire tu lo sai giocare gaspard vuoi venire su discord ne facciamo una insieme con qualcuno che lo sa giocare mi serve di essere cocciato eh qualcuno magari che lo sa giocare in costruito cioè che lo sa giocare in historic vai tutto sto casino per comunque prendere ultimato un turno dopo da questa bon vabbè questo adesso mette tutte le fratte del mondo conosciuto quindi a patria non va tolta mai perché serve ma abbiamo imparato che non si può improvvisare con sti mazzi mi sa che puoi scombare anche senza patria ti fa scombare più velocemente eh ma non l'ho ben capita sta roba io non l'ho troppo capita dei malligari se non hai cordo jagmot emo giusto ne andiamo sugli opinioni però non è che posso mal cioè per me questo è un keep per me questo è un keep tolgo una terra tolgo una terra mana di ma lui adesso fa purga comunque prima o poi però è un hit set non c'era il bianco sai che forse non c'era il bianco quindi a brother who's hand certo che c'è il bianco non scombate senza patria non scombate senza patria però io l'ho visto scombare senza patria sto mazzo in realtà non scombare ok vai con due lupi esatto questa cosa l'ho capita dei due lupi è che serve essere molto veloci serve sapere che cazzo c'è stiamo facendo pure quello è il discorso qua possiamo attivare sorin grazie a tutti grazie a tutti qua possiamo togliere età mio con sorin yep vai vai quel boros gatti che porti spesso mi ha fatto venire voglia di comprare la versione cartacea per il modem troppo bella wow mi dispiace che sia stato così dannoso per te e counter poi vingiamo con sorin adesso poi vingiamo con sorin sti cazzi sì ma contro non lo gioco perché a qualifier fare contro 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 io non la voglio fare quindi per quello non lo testo nemmeno perché non mi va di fare contro 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 cioè quello è il discorso si è sbagliato secondo me lui se trova terra purga se no qua so danni e allora andiamo andiamo a basso vabbè qua purga vinta quindi terra vinta mi dispiace my friend ciao nissas mi dispiace my friend abbiamo vinto un game allora lui c'ha le fratte le cose quindi contro contro l'abbiamo letto questa ma questa devo fidarci del maestro ciao nissas prima di tutto punto esclamativo codici così ti fai ti riscatti tutti i codici che ci sono seconda cosa ti invito volentieri nel discord eh pure esclamativo social sempre discord e lì puoi chiedere tutti i consigli che che vuoi però di base fai le missioni fai i mazzi base e dopodichè in base a quello che ti piace ti diamo consiglio allora forse sankliser qui va messa però mi viene da dire che sankliser va messa qui forse ocelot non è proprio il suo match up io le metto queste alla fine c'ha le fratte con l'energia esatto really good comunque di base caro è un gioco dove ti puoi divertire a fare quello che ti piace nel senso che all'inizio ti consiglio di fare tutte le sfide colore che si sottopone alla piattaforma e ti sblocchi tutti i mazzi base dopodichè quando hai sbloccato tutti i mazzi base io ti consiglio sempre di partire dai stori che poi ti suddisco ti metto un po' di link di mazzi che puoi iniziare a giocare dopodichè li giochi ranked quando li sai masterare ti consiglio gli eventi best of one in modo tale da poter iniziare a fare risorse questo è il percorso diciamo qual è il super deck caro jagmo ti dici abbiamo perso l'aprile ha vinto la seconda e siamo uno sulla terza sì sì certo che te li gira adesso finiamo questa ma nel discord sezione youtube ne trovi un sacco in questo momento il migliore per farmare forse boros gatti in historic però ti serviranno un po' di risorse per farlo comunque sto già fatto una versione budget e poi e la posso passare allora c'è devo fare un video più che altro qui partiamo col col mana torque yes ah quindi se io ho orientato a giocare control da quello che stai scrivendo diciamo beh facciamo questa così poi entrano pezzi allora tu hai counter io lo so ma sei un nuovo giocatore di magic o soltanto di arena c'hai già giocato a magic in passato e questo sarà un counter e usalo che te devo dire facci sto counter allora vedrai che ti divertirai a scoprire da solo quello che ti piace di più meglio qui che sugli admo poi sta girando di culo ma io in realtà ne ho fatto uno in historic con solo due rare quindi in realtà anche in historic si può anche in historic però si anche in facciamo food token questo spacca questa interessante eh ma non ci potrei provare qui vabbè comunque pesco due carte quindi non ci dispiace cerchiamo corda ma in realtà no forse non forse non conviene questa cosa vabbè però pesco delle carte sì ma il lupo non ha l'effetto di attendant è finito porca puttano sbagliato ho sbagliato qua e ma se iniziare mi consigli credo che siano tutti uguali bilanciati grazie non ho presente i mazzi base però credo che dove ci sia il blu dove c'è il blu probabilmente ecco un po troppe terre i colori del contro sono blu e bianco di solito ma adesso non so con i mazzi sui mazzi base quali sono io non posso mettere quagli a gombo poterlo in mano e comunque caro contro il budget è più difficile contro il budget è più difficile perché già solo con la manabe si servono comunque dalle terre questo toglie lupo ok toglie lupo male o toglie in keeper toglie in keeper facciamo vite mi sa che questa è andata e abbiamo un po' fluddato qua è qui è andata un po' così comunque dopo questa posso vabbè adesso vediamo no va bene vabbè qua fludd allora diciamo che yagmoth è un bel mazzo non so come faccio vedere questa win rate probabilmente non fa per me però buono lo so